E' un'emergenza questa molto pesante, ci sta assorbendo, sta assorbendo a tutti, grandi energie economiche, fisiche, anche morali, ma non è questo il momento di riprendere fiato, non ci possiamo permettere di fermarci, adesso più che mai dobbiamo correre e far correre la nostra economia, l'economia del nostro Paese, adesso ci dedicheremo nelle prossime ore, senza tregua, ci dedicheremo al decreto sulle semplificazioni e contemporaneamente lavorerò al piano europeo dei nuovi strumenti finanziari per questa emergenza. Con il decreto sulle semplificazioni l'obiettivo è molto chiaro, rendere più rapidi, più trasparenti alcuni passaggi dei vari procedimenti amministrativi, in modo da accelerare a costo pressoché zero la crescita economica e sociale. Subito dopo inizieremo a programmare interventi di più ampio respiro, investendo sull'Italia che vogliamo, un'Italia che nel nostro progetto politico è molto chiara, è un'Italia più verde, più digitale, più inclusiva.